Un viaggio in otto comuni dell'Alta Valle dell'Aterno alla riscoperta di storie, ricordi e tradizioni per raccontare le radici dei luoghi e renderle attuali. E' questo lo spirito di Story Campus, un campus itinerante gratuito sulla narrazione, aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni in programma dal 20 al 27 luglio. Story Campus è attivato dal comune di Scoppito in collaborazione con i comuni di Barete, Capitignano, Cagnano Amiterno, Campotosto, Montereale, Pizzoli e Torni in parte. E' un progetto che nasce dalla collaborazione del comune di Scoppito con alcuni professionisti che già operavano in questo settore e che abbiamo voluto estendere a tutta l'Area Omogenea 2, quindi da Campotosto a Torni in parte. E quindi abbiamo messo su questo progetto un bando per la partecipazione a questa iniziativa di 25 ragazzi per poter lavorare in prospettiva sulla professionalità e promozione turistica del territorio. Una carovana di docenti ed allievi viaggerà negli otto comuni del progetto, riportando alla luce le storie dei luoghi e trasformandole nei diversi linguaggi della narrazione, scrittura, fotografia, documentazione video, giornalismo, documentario. Al termine delle attività giornaliere di sera il campus si aprirà al pubblico con un ricco calendario di eventi, incontri e spettacoli che costituiranno parte integrante e proseguimento delle attività mattutine. Questo tipo di progetto è stato già sperimentato in altre aree, soprattutto nella parte laziale del Parco Nazionale e ha ricevuto già un successo notevole. Quindi i sindaci hanno ritenuto opportuno coinvolgere anche le associazioni del territorio per poter garantire la partecipazione e comunque questo legame delle professionalità al territorio stesso. Il campus è aperto a 25 giovani. La domanda di iscrizione che scadrà il prossimo 8 luglio deve essere indirizzata a storycampus.gmail.com Tra i docenti del campus c'è anche Donatella Di Pietrantonio, la scrittrice abruzzese che nel 2017 con l'Arminuta, edito da Einaudi, si è aggiudicata il premio Campiello.